Diventa un caso politico il panino consumato in comune dalla sindaca Cecilia Francese, dall'assessore Cerullo, dal presidente del Consiglio Falcone e da qualche dipendente comunale. La positività di un funzionario che ha partecipato al branch ha fatto scoppiare la polemica circa l'assenza di precauzioni per il contenimento del contagio da Covid, testimoniata anche da una foto scattata da uno dei presenti. Ringrazio il dipendente comunale che ha conservato la foto incriminata, ha affermato la sindaca nel post dichiarimento, ha aspettato di conoscere la positività del suo collega e anonimamente ha inviato foto ai giornali per colpire un sindaco che ha la colpa di amare la sua città e i dipendenti che lavorano incessantemente per migliorarla. Diversi toni utilizzati dall'assessore Pietro Cerullo, anche egli presente al branch, che ha parlato di errore che si poteva evitare. Pertanto, ha aggiunto Cerullo, chiedo scusa a quanti si sono e si sentono offesi, visto che seppur esseri umani al momento rappresentiamo e stiamo rappresentando le istituzioni, quindi avremmo dovuto essere da esempio e non da cattivo esempio. Sulla questione si è espresso anche il candidato sindaco di Civicamente, Maurizio Mirra. La vicenda del panino con la mortadella consumata in comune ha fatto molto clamore. Si tratta di una leggerezza senza dubbio, amplificata dal fatto che è stata commessa anche dal sindaco, che è la massima autorità sanitaria in città ed è anche un medico, e anche dal fatto che una simile leggerezza magari a un cittadino comune, a un commerciante, a un negoziante, a un titolare di un bar o di un ristorante, viene fatta pagare con una grossa sanzione amministrativa. Ma il problema è di fondo perché l'amministrazione stessa deve essere inadeguata e non solo nelle sue forme esteriori. Questo ci ha convinto ovviamente ad impegnarci direttamente come cittadini per cercare di dare una svolta alla situazione, anche perché il Covid, al di là di queste vicende boccaccesche, lascerà chiaramente un grosso ostacico, soprattutto nei prossimi mesi, soprattutto sul tessuto sociale ed economico. ed è necessario ad questo punto essere seri, essere consapevoli, essere competenti ed essere adeguati al proprio ruolo. Per questo motivo Civicamente e Red Civica stanno facendo il massimo per fornire ai cittadini un'alternativa.